il sacrificio di sacco come non lo avevi mai letto no non è l'ultimo romanzo di dan brown è uno dei modi in cui oggi proveremo insieme alla nostra anico ebraista quasi biblista a leggere uno dei targum di cui abbiamo già visto il primo video introduttivo e lo facciamo come al solito dopo la sigla fra il tormento e la grazia non voleva partire la nostra sub sigla bene allora se vi siete già scordati tutto del targum vi lascio in descrizione il link al primo video che lo potete recuperare oggi abbiamo scelto di riflettere con voi in questi pochi minuti un brano assai famoso che il targum il targumista si dice che si dice così ma il targumista il traduttore interprete e segeta sintetizzando ha voluto commentare quindi lo leggiamo insieme ringrazio anico per avermi donato questo questo file in cui c'è la traduzione in italiano adesso ve lo spiego subito come si legge allora questo è il targum pseudo jonathan e se volete riprendere quale di targum riprendetevi la vecchia live vedete qui c'è il testo in times è quello che trovate anche nelle vostre bibbie poi in bucca antiqua è invece proprio la traduzione interpretazione del targumista quindi questa parte qui vedete è molto commentata ma vedrete anche come abbiamo visto nel testo della volta scorsa che il targumista inserisce anche interlinearmente dei commenti tipo questo qui vedete che io ve l'ho segnalato in bucca antiqua lo leggiamo insieme prendiamo qualche spunto anche per la nostra vita di fede allora vedete ecco ok benissimo aggiungeresti qualcosa a quello che ho detto fino adesso e solo fosse vale la pena menzionare che questo testo c'è la narrazione del cioè del sacrificio di abramo o di isacco non so come chiamate in italiano di isacco sì intendo sì dipende che tipo di genitivo parliamo perché se genitivo soggettivo abramo se oggettivo isacco va bene scusate lasciate le tranquille sono eseggete fanno sempre così adottatene una e vedrete che non vi perderà mai di dirvi se un genitivo oggettivo soggettivo ma a parte questo quindi quindi questa narrazione in ebraico si chiama a che da cioè praticamente questo significa c'è come si dice legatura no legame non legame c'è l'atto di legare qualcosa e il legare il legare sì c'è sì legare di isacco cioè che la parola deriva dal ai in ko dale che significa legare quindi loro focalizzano più a questo aspetto non mi viene il sostantivo di legare cioè sarebbe un sì non lo so scordato l'italiano vabbè ok allora leggiamo insieme il nostro il nostro testo eccolo qua lo recuperiamo eccolo allora e fu dopo queste cose che argomista isacco ismaele si misero a litigare ismaele disse penso che sia giusto che io debba ereditare la parte di mio padre perché io sono il suo primo genito isacco disse penso che sia giusto che io debba ereditare la parte di mio padre perché io sono figlio di sara sua moglie tu sei il figlio di agar la serva di mia madre ismaele rispose io sono più degno di te perché sono stato circonciso all'età di 13 anni e se avessi voluto resistere non sarei stato circonciso ma tu sei stato circonciso a otto giorni e se avessi avuto buon senso allora forse non ti saresti sottomesso alla circoncisione isacco rispose ecco ho che oggi ho 37 anni e se il santo benedetto egli sia mi avesse chiesto tutte le mie membra non avrei rifiutato queste parole giunsero agli orecchi del signore di tutti e il membra del e qui vedete si aggancia di nuovo il brano che troviamo anche nelle nostre bibbie e il membra del signore mise la prova di mise la prova a bramo gli disse a bramo ed egli rispose eccomi allora ricordiamo cos'era il membra allora sì il membra era la parola del signore come vedete qui appunto trasmette un messaggio oppure invoca avramo diciamo così ma se non sempre ma in questo caso a questa funzione così essere quasi la bocca di dio come dire cioè un mediatore della voce di dio oppure della voce divina e poi vedete che qui abbiamo una narrazione nella narrazione come dire cioè questo scontro tra isacqua ismaele che c'è tutte le cose che dovremmo sapere cioè leggete i primi 21 capitoli e cioè vedrete questa cosa che non era non è non fu evidente chi erediterà cioè le parti di abbramo e poi vedete che qui abbiamo due tempi temi molto importanti uno è la circoncisione e questo praticamente riflette cioè degli abitudini più recenti rispetto alla narrazione del genesi cioè di questa parte poi un'altra cosa importante questo che se vedete isacco già adesso sembra essere disponibile a dare tutto a dio cioè anche sacrificarsi cioè anche se come come abbiamo letto che come 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 l'hai letto isacco penso sia giusto che io debba ereditare la parte di mio padre perché io sono figlio di sara sua moglie tu sei figlio di agar la serva di mia madre ah sì ma questo che quando isacco risponde isacco rispose ecco io se mi avesse chiesto tutte le mie membra non l'avrei rifiutato cioè che vedete che il targumista diciamo così per per semplificare la sì cioè il targumista sottolinea la parte cioè il punto di vista di isacco qui che lui già disponibile a dare tutto a dio a sacrificare tutto a dio e così in questo modo la prova non sarà soltanto prova di abramo ma anche la prova di isacco perché appena ha dichiarato che io potrei dare tutto a dio interessante questo passaggio veramente anche chi chi cioè isacco comunque non può sapere quale sarà la prova effettivamente no non può sapere ma comunque però ti dice io mi rendo comunque disponibile a quello che dio mi chiede esatto esatto e quindi riprendiamo ed egli rispose eccomi e disse e disse ad abramo dio prendi ora tuo figlio il tuo unico figlio che ami isacco e va vedete ecco qui una glossa interlineare penso che sia cioè questi non sono interlineari cioè quelle cose che abbiamo visto nel primo video erano la correzione più 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 recenti della copista ok questi sono aggiunte così nel testo ok allora questa giunta va nel paese del culto poi torna il testo ordinario e offrilo là come olocausto sacrificio ardente su uno dei monti che io ti indico allora abramo si alzò al mattino preparò il suo asino prese con sé due dei suoi servi Eliezer e Ismaele e anche Isacco suo figlio e tagliò targumista dei rami di olivo di fico di palma di dattero che sono adatti testo ebraico all'olocausto poi si alzò e si recò nel luogo che il signore gli aveva indicato il terzo giorno abramo alzò gli occhi e vide eccolo qui la nube di gloria che ardeva sul monte visibile da lontano abramo disse ai suoi servi aspettate qui con l'asino io e il giovane procederemo fino laggiù per mettere alla prova che ciò che è stato annunciato verrà compiuto ecco come saranno i vostri figli confronta ter ter 26 il 4 sarebbe genesi in ungherese scusate questo è invece interessantissimo finiamo il vertetto e ci prostreremo davanti al signore di tutti e torneremo e torneremo da voi sì cioè scusate per questo ter che terente sarebbe genesi in ungherese ho dimenticato a modificarlo ma comunque questo è interessante adesso mi è venuta in mente che in questo modo anche abramo mette alla prova dio che abramo già anticipa la promessa ah già certo ancora non è certo ancora non non è stato annunciato niente ma alla fine eh alla fine cioè il targumista anticipa questa promessa che adesso abramo vorrebbe eh verificare molto interessante quindi ci sono tre prove tre prove diverse sì allora se vedete nel versetto 3 brevemente che ci sono questi rami diversi cioè il targum praticamente eh specifica il tipo di albero no e perché perché vorrebbe sottolineare che abramo anche se ancora non ha cioè ancora Mosè non ha ricevuto cronologicamente la Torah cioè come dire i comandamenti cioè Abramo già agisce secondo la Torah e usa soltanto dei dei legni che sono adatti ad un olocausto cioè interessantissimo poi avete la gloria che che simbolizza il la presenza di di Dio allora andiamo procediamo avanti col testo al versetto 6 Abramo prese la legna per l'olocausto la mise su Isacco suo figlio prese il fuoco e il coltello in mano e i due proseguirono insieme allora Isacco disse ad Abramo suo padre padre e Abramo sì e Abramo chiaramente lo abbiamo messo noi per far capire chi risponde rispose eccomi sono qui figlio mio e Isacco disse ecco il fuoco e la legna ma dov'è l'agnello per l'olocausto Abramo rispose il signore sceglierà per sé l'agnello per l'olocausto figlio mio e proseguirono insieme aggiunta con cuore integro perfetto ed unito diciamo così che non è proprio un'aggiunta non sono tutte le cose aggiunte cioè va il testo aramaico che traduce quasi letteralmente l'ebraico e poi ci sono dei cambiamenti lessicali per esempio a volte aggiunta a volte solo cambiamento c'è un choice of words soffre diciamo ok andiamo al 9 essi giunsero al luogo che il signore gli aveva indicato e Abramo vi costruì l'altare Targum che Adamo aveva costruito che il diluio aveva distrutto che poi Noè aveva ricostruito e che la generazione delle divisioni aveva distrutto testo ordinario poi vi sistemò la legna legò Isacco suo figlio e lo pose sull'altare sopra la legna E non è interessante quest'altare C'è tutta una Sì questo ama il Targum che dove ci sono cioè ci sono degli oggetti e dei luoghi che cioè il Targum rappresenta come se già già dal dall'inizio del mondo fossero stati creati come dire cioè anche questo c'è una catena e questo simbolizza questo progetto divino che dura per sempre Una trasmissione dunque anche negli oggetti che vengono distrutti ma ricostruiti Eh sì 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 esprime una continuità in questa cioè in questo progetto divino per salvare il popolo eletto poi e questa era la parte che quando l'ho letta mi è piaciuto tantissimo Abramo stese la mano e prese il coltello per uccidere suo figlio Targum Isacco esclamò e disse a suo padre legami bene perché non sia preso a calci per il dolore della mia anima e gettato nella fossa della distruzione e il tuo sacrificio sia corrotto da un errore gli occhi di Abramo di Abramo guardarono negli occhi di Isacco Isacco guardava gli angeli dall'alto Isacco li vedeva ma Abramo non li vedeva e gli angeli in alto esclamarono vieni a vedere questi due che sono soli al mondo uno che uccide e uno che viene ucciso colui che sta per uccidere non ritarda e colui che sta per essere ucciso allunga il collo intervengono gli angeli attenzione sì esatto ma è interessante che adesso intervengono ma adesso sono quasi come un coro come quelli che vedono questi 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 eventi comunque secondo te perché Isacco vede gli angeli e Abramo no? semplicemente perché Abramo è riverso sul figlio quindi ce li ha di spalle? forse non lo so cioè questo non saprei dire ma c'è una tradizione che dice che cioè sì Isacco veramente aveva in quel momento è stato così vicino a Dio che poteva vedere gli angeli e c'è un'altra tradizione che non c'è qui perché non riporta il testo che invece Abramo vedeva cioè gli angeli negli occhi di Isacco bellissimo bellissimo ma non mi ricordo dove potrei trovarlo ma mi ricordo quando ho fatto la traduzione l'ho trovato e poi cioè a me invece piace molto questa cosa che vieni a vedere colui che sta per uccidere non ritarda va bene e colui che sta per essere ucciso allungo il collo e questo invece richiama Eved Adonai cioè il servo di Dio che si mette alla sofferenza e così si crea anche un parallelo cioè per noi intendiamoci cioè non per gli ebrei ma per noi si apre un parallelo molto bello anche con con Cristo che dà tutto già dall'inizio che che tutto per il Padre tutto tutto per per la nostra salvezza comunque questo è veramente veramente è un punto importante Continuiamo la nostra lettura l'angelo del Signore gli gridò dal cielo e gli disse Abramo Abramo e Abramo disse eccomi e gli disse non stendere la tua mano al giovane e non fargli alcun male perché ormai è stato rivelato davanti a me che temi il Signore siccome non hai rifiutato o ritenuto a me il tuo unico figlio Abramo alzò gli occhi e vide che c'era quella riete che era creato tra i due giorni della creazione del mondo catturato con le sue corna come in un ramo d'albero Abramo andò lo prese e lo offrì come olocausto al posto del figlio Abramo rese grazie pregò in quel luogo e disse ti prego per la misericordia che viene dalla tua presenza o Signore ti è stato rivelato che non c'era alcuna falsità nel fondo del mio cuore e mi preparavo con gioia ad eseguire il tuo ordine affinché quando i figli di mio figlio Isacco verranno nell'ora della sofferenza questo sia per loro un memoriale rispondigli e salvali e tutte le generazioni diranno su questo monte Abramo legò Isacco suo figlio e qui gli apparve la presenza Shekinah del Signore sono interessanti peccato solo che è spezzato a metà e qui ci sono i nostri appunti i versetti 13 e 14 perché c'è la riete che secondo i padri della Chiesa è prefigurazione di Cristo e sì può essere prefigurazione di Cristo secondo i padri ma vedete che questa riete adesso è descritta in un modo molto simile all'altare cioè che praticamente questa riete veramente esiste dalla creazione questo è una cosa cioè molto interessante che ci sono diverse teorie cosa cosa sarebbe questo tra i due giorni tanti dicono e questo è il più comune ma ci sono altre soluzioni che i due giorni sono cioè il secondo giorno della creazione quando la luce si creò ah interessante sì sì molto interessante quello è il quarto se non mi sbaglio adesso non sono molto nel genesi uno due ma comunque quando il sole viene creato cioè dicono che questi due giorni quando la luce in generale e la luce in specifico viene creato cioè che questa riete oppure se il sesto giorno quando Dio smette di lavorare cioè nella transizione tra lavoro e il Shabbat cioè in quel periodo così indefinito cioè che non possiamo definire bene quando ancora non è entrato non è entrata la Shabbat ma già non lavoriamo che in questo periodo Dio ha creato dieci cose tra cui anche questa riete interessantissimo e poi il 14 cioè questo è una riflessione cioè un po' no dice più specificamente perché si chiamerà questo luogo come si chiama eccetera cioè c'è una vedete che qui veramente vediamo vedete che qui veramente vediamo quindi come dire sono brava in figura etimologica che è una cosa ebraica quindi cioè che qui c'è questa continuità delle generazioni che il merito di Isacco sarà anche il merito di diverse generazioni nel futuro quindi anche questo è un po' interessante a cui noi possiamo legarsi come dire secondo me almeno non è che loro pensavano che come Cristo certo certo che no ma noi se leggiamo come cristiani vediamo queste questi paralleli ma non dobbiamo dire che questo dice il testo solo che io riconosco dei paralleli benissimo ma alla fine questa continuità tra le generazioni è importantissimo perché questo è un punto veramente fondamentale per la tradizione ebraica sì procediamo allora con la lettura fino in fondo secondo me solo c'è un'aggiunta ancora allora andiamo avanti solo da da 19 saltiamo poi al 19 e diciamo gli angeli di lassù presero Isacco e lo portarono nella scuola Medrashah del grande nome dove rimasero tre anni in quel giorno Abramo tornò dai suoi serbi si alzarono e andarono insieme a Bar Sheba e Abramo si stabilì a Bar Sheba interessante che gli angeli scusate Bersheb niente ho fame voglio andare al bar quindi leggo Bar Sheba ah va bene va bene allora sì perché l'hanno portato cioè questa è una tradizione così ma praticamente Isacco viene dimostrato come come un futuro rabbino cioè no che va si prepara a Talmud Torah cioè studia questi testi e poi quando ritorna sarà capace di insegnare di guidare il popolo eccetera e poi poi niente niente belle tutte queste reinterpretazioni che ci possono aiutare anche a leggere quello che dice noi questo testo del Genesi rimuovo il testo rimaniamo noi per le conclusioni questo ariete no noi possiamo dire poi come diceva il mio maestro di Pentateuco padre Mark Avila che saluto e casomai vedesse questo video è nel momento così drammatico che Dio dice ad Abramo di non uccidere più suo figlio perché il padre darà il suo figlio che è Cristo eh sì questa è la interpretazione cristiana sì ma per me è importante che Isacco è descritto come un sì come quello che veramente viene sacrificato anche perché questo non ho detto ma il testo usa quella parola che si usano quando uccidono gli animali per il sacrificio cioè in paragone con i sacrifici al Tempio enorme enorme veramente cioè per me questo è la disponibilità di Isacco è qualcosa che io vorrei veramente imparare ed è una cosa che vorrei imparare anche io in tutte le volte che il Signore ci chiede qualcosa di che forse ci sembra troppo e sull'esempio di Isacco possiamo chiedere davvero questa grande forza della disponibilità bene abbiamo completato questa lottura ringraziamo la nostra Anico per essere stata con noi se volete il testo io lo sistemo se volete il testo scriveteci una mail a claptiologico migliau punto com e grazie per questo approfondimento ci vediamo presto e continuiamo a vivere la nostra vita di fede tra il tormento e la grazia grazie a tutti